Ciao amiche e ciao amici bentornati sul canale! Oggi video flash, video scoop su nuovi profumi dupes presenti da acqua e sapone. Alcuni nuovi, alcuni forse già visti, ma ve li voglio comunque menzionare. Allora, intanto comincio con un brand che realizza dei profumi molto molto carini, cioè a livello proprio estetico sono molto belli, i packaging sono super super accattivanti e questo brand si chiama Woman's Secret. Ve ne parlai alcuni mesi fa, vi metto il video che tra l'altro avete apprezzato tantissimo, vi linko il video nell'info box, quindi mi raccomando se non l'avete visto andate a cliccare, dateci un'occhiata perché secondo me potrebbe essere molto interessante. Cominciamo con il Rouge Seduction, questo qui lo vedete in sovrimpressione con questo pack super super carino accattivante. Questo ragazze mi ha ricordato tantissimo il sì passione di Giorgio Armani. Perlomeno questa è la sensazione che ho avuto subito, appena erogato. Ragazzi, secondo me ci si avvicina tanto e vi dirò anche di più che nel video precedente vi dissi che un altro profumo, sempre della Woman's Secret, ve l'ho messo in sovrimpressione, il Gold Seduction, vi dissi che mi ricordava tantissimo il Black Opium di Yves Saint Laurent. Però vi dico la verità, ripensandoci potrebbe anche ricordare il Gold Seduction, ripeto, potrebbe ricordare il sì Armani classico, perché comunque è una famiglia olfattiva che si avvicina un pochino al Black Opium. Sono due Gourmand favolosi, secondo me, quindi fatemi sapere nei commenti se avete avuto modo di annusare il Gold Seduction, che cosa ne pensate. Potrebbe anche essere ammetrata il Black Opium e il sì Armani, quello proprio classico, quello proprio il primo, sì, quello originario. Ok, andiamo avanti. Poi ho trovato quest'altro profumino molto carino, di cui ci sono diverse, diciamo, tipologie di packaging, si chiama Over Red, e questo di Gianmarco Venturi, e questo, ragazze, mi ha ricordato il Baccarat Rouge, cioè in realtà io ho un dupe del Baccarat Rouge, il Red Temptation, che è di Zara, e ho anche un altro dupe di Iodeima, di Baccarat Rouge, quindi penso di aver capito bene la famiglia olfattiva, anche se io il Baccarat Rouge non l'ho mai sentito dal vivo, diciamo così, e questo, devo dire, ragazze, che mi ha ricordato un po' quella famiglia olfattiva, anche se ha qualcosa di diverso. Un profumino molto molto interessante, e poi, ragazze, qui i prezzi sono veramente molto molto abbordabile. Ok, poi abbiamo una super novità di Acqua D, perlomeno io non le avevo mai visti, quindi scusatemi se magari vi nomino, vi menziono qualcosa che in realtà già c'è, però io non le ho mai viste, quindi ve li voglio assolutamente menzionare, e voi sapete che io adoro il brand Acqua D, ho in questo momento l'Acqua D Dream, ricomprato da poco, che è questo, è il dupe di Nascito Rodriguez, Eau de Toilette, quello nella boccetta nera, fantastico dupe, e ho trovato dei nuovi dupe. Allora, c'è l'acqua di Fleur, guardate ragazzi, è questo, in questa boccetta stupenda, opaca, cioè io solo per la boccetta vorrei acquistarlo, e penso che l'acquisterò solo per la boccetta, mi ha ricordato il Flora di Gucci, cioè ma il Flora è quello proprio classico, non il Flora, i Flora, i Flanker che sono usciti da poco, insomma, proprio il Flora classico mi ha ricordato, però potrei anche sbagliarmi, comunque un bellissimo floreale, super super femminile, è un floreale rosa, poi abbiamo l'acqua di Girlfriend, e qui vi dico ragazze che non ho potuto sentire il tester, però, cioè, io ci scommetto che questo è il dupe di Good Girl di Carolina Herrera, perché ragazze, cioè, il packaging è quello, cioè, mi ha subito ricordato il packaging del Good Girl di Carolina Herrera, quindi fatemi sapere se voi avete avuto modo di sentire il Girlfriend, perché chiaramente non c'era il tester, e quindi non potevo sentirlo, fatemi sapere nei commenti, e poi ho trovato dei profumi di Alviero Martini stupendi, le boccette sono enormi, praticamente credo da 100 ml, e il prezzo è super vantaggioso, sui 12,90 euro, credo, 13 euro, insomma, così, non sono precisa, ma il range è quello, il profumo Margaux di Alviero Martini mi ha ricordato il Rose's Mask di Montal, però in una versione molto più fresca, perché questa è una rosa fresca e muschiata, e mi ha dato quell'impressione, non è un perfetto dupe, però è su quella falsariga, è su quella famiglia olfattiva, poi ci tornerò, ragazzi, a sentire gli altri profumi di Alviero Martini, perché sono super interessanti, però avevo ormai il naso super sature, quindi non stavo capendo più niente, e poi vi voglio anche menzionare il Monella Vagabondo Belle, che io non avevo mai visto presso il mio Acqua e Sapone, che subito chiaramente mi ha ricordato la Vie Belle di Lancôme, questo è, se non erano de toilette, comunque diciamo, come dire, è molto molto, è una versione molto molto leggera di la Vie Belle, che però potrebbe piacere, potrebbe piacere perché noi sappiamo che la Vie Belle è comunque un profumo molto intenso, molto imponente, con un sillage incredibile, questa è una versione un pochino tra virgolette diluita, però interessante, e poi il Monella Vagabondo Black, che mi ha subito ricordato il Black Opium di Yves Saint Laurent, e questo ragazze, secondo me, ci si avvicina abbastanza, però chiaramente la durata non è eccelsa, questo ve lo posso dire perché l'ho erogato sul polso, ha avuto una durata, diciamo, abbastanza accettabile, però chiaramente non ai livelli del Black Opium di Yves Saint Laurent. Ok ragazze, io al momento termino qua, spero che questo video lampo vi sia piaciuto, e come sempre vi auguro una splendida e radiosa giornata. Un bacione!